Crisi idrica nel Cilento. Questo è il nome del convegno che si è tenuto sabato presso la nuova sala polifunzionale di Pioppi e che è stato non solo un momento di dibattito tra i numerosi sindaci e rappresentanti dell'istituzione convenuti, ma anche è stato quello per aprire una nuova polemica, una dialettica che finirà per accompagnare quella in corso sul sito di compostaggio di Castelnuovo. Al centro della polemica infatti non solo le contestazioni sui dati forniti dal CONSAC circa l'eseguità dell'acqua nel Cilento, non diluita neppure dalle piogge abbondanti, ma anche la diffusa esistenza sul territorio di tubature di cemento amianto. Piuttosto che di crisi idrica parlerei di crisi delle infrastrutture e vale a dire delle condutture idriche perché di acqua ne abbiamo in abbondanza, anzi moltissima acqua largamente superiore al fabbisogno e degli autoctoni e dei cittadini turisti. Il problema è quello delle condutture che sono vecchie, sono dei colabrodi, lasciano perdere, tracimare e perdere la più parte dei quantità di flussi idrici e per giunta poi sono sotto il profilo sanitario insicure, anzi perniciose perché non è nuova la mia opinione che le condutture in cemento amianto sono potenzialmente cancerogene. Io sono uno studioso del diritto comunitario e ho rinvenuto nelle mie ricerche una risoluzione del Consiglio europeo del 2013 che invitava gli stati aderenti all'Unione europea a rimuovere le condutture in cemento amianto. Ora il fatto che il Consiglio d'Europa scenda in campo con questa risolutezza la dice lunga e fa giustizia di tante dubbiezze molto spesso omertose e interessate quelle di negare l'esistenza di questo problema. Si dice ma il cemento amianto, la fibra di asbesto è pericolosa solo per inalazione perché provoca il tumore al polmone. Questo è un refreno, un ritornello dietro al quale poi ci si nasconde, ci si nascondono le proprie responsabilità. Ho chiesto su questo argomento più volte un riscontro scientifico al Professor Giulio Tarro che come è noto è responsabile per l'ONU della ricerca epidemiologica sulle malattie tumorali. Il Professor Tarro mi ha fornito letteratura canadese e americana la quale dice l'esatto contrario, dice che a fronte di esperimenti fatti sui ratti ad esempio, l'ingestione dell'acqua veicolata da conduttore di cemento amianto soprattutto se vetuste provoca l'insurgenza di tumore all'apparato gastroenterico. Ma comunque sia, anche se a livello di pensiero scientifico internazionale non c'è unanimità di consensi ma basta già il dubbio, il fondato dubbio in base al principio di precauzione che è un altro principio fondamentale dell'ordinamento comunitario per indurre le autorità competenti alla rimozione il più rapidamente possibile delle tubazioni in cemento amianto.